Buona serata, Dio ci benedica ancora questa giornata e questa serata. Questo è meraviglioso poter fare qualcosa per il popolo di Dio per aiutarlo ad avere ciò che veramente ha più di bisogno. E questo è meraviglioso poter condividere il nostro amore eterno a tutti quanti che hanno questa gioia di condividere l'uno con l'altro. Dio ci benedica ancora questo proseguimento nella preghiera e nel raggiungimento del nostro totem, che è Gesù Cristo, nostro Salvatore. Vi benedico da parte mia, Angelo Piccone, a tutti quanti, e presto faremo cose sbalorditive. Sì, con la S maiuscola. Perché il Signore ha avuto pietà di ognuno di noi che abbiamo cercato Lui in ogni momento. Una piccola preghiera per tutti quanti, accettatela come se fosse detta da ognuno di voi. Padre Santo, Dio d'amore, questa serata, Padre, voglio aggiungere questa preghiera meravigliosa che possa toccare i cuori di ognuno che sta cercando Te attraverso il Tuo figliolo, Gesù Cristo. Padre, benedici queste persone, queste anime, disperate, che hanno un grande bisogno di Te. Ancora, Padre, benedici tutta l'umanità. Ancora, Padre, benedici tutti quelli che ancora stanno cercando e non sanno come trovarti, che questa sera e questa preghiera possa raggiungere i cuori lontani da Te. Grazie, Padre. Ancora, benedici me, benedici la mia casa, la mia famiglia, e tutti quanti che possiamo raggiungere Te tutti insieme come un solo uomo. Grazie, Padre. Benedici ancora tutti gli anziani, gli ammalati, i carcerati, i bisognosi, le vedove e tutti quelli che in questo momento si trovano afflitti con questo coronavirus. Signore, benedici le che possono guarire al più presto e che questo virus possa scomparire al più presto dalla circolazione. Ti ringraziamo, ti odiamo e ti benediciamo tutti insieme come un solo uomo. Grazie, Padre. Nel nome di Cristo Gesù che tu l'hai benedetto in eterno. Amen. Amen, cari nella grazia. Chiudo. Ci sentiremo presto. Vi abbraccio come faccio sempre. Così e vi cullo come Gesù culla me. Quattro baci per ognuno. Uno. Due. Tre. E quattro. Per ognuno. Dio ci benedica. Amen. E quattro baci per ognuno. 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 Grazie.